Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Infipilè per lavori e rallentamenti tra Montelupo-Fiorentino ed Empoli-Est in direzione Livorno e tra Empoli e Montelupo-Fiorentino in direzione Firenze. Per questi lavori è entrata chiusa ad Empoli-Est in direzione Firenze. Rallentamenti per lavori tra Ponte Dera-Est e Ponte Dera-Ovest e Ponsacco in direzione Livorno. Possibili disagi per un incidente avvenuto in uscita alla Strassigna. Provenendo da Firenze. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Sul raccordo Siena-Bettolle, rallentamenti per lavori tra Casetta-Monte Aperti e Castelnuovo-Berardenga e tra Rapolano-Terme e Colonna del Grillo in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!